E' stato presentato in questura a Pescara il progetto educativo regionale Abruzzo contro il bullismo che nei prossimi mesi coinvolgerà oltre 30 istituti scolastici. Presente anche la delegata dell'ufficio scolastico provinciale Daniela Puglisi che ha ricordato l'istituzione di un osservatorio specifico sintomo del fatto che la scuola ha sempre tenuto un riflettore acceso sul fenomeno. Ci sarà qui a Pescara la giornata regionale sul bullismo, 17 febbraio ore 11, teatro Circus con tanti ospiti tra cui la conclusione di Giobbe Covatta. Un momento importante, il bullismo è un tema di cui si parla molto, un tema molto sentito dalle scuole. Ci saranno tanti ragazzi, tante scuole e ringraziamo tutti coloro che hanno consentito questa giornata dalla Fondazione Pescara Abruzzo alla Questura di Pescara. Un momento molto atteso che continuerà con tanti appuntamenti. Rete 8 sarà sicuramente presente anche perché le scuole che non potranno partecipare potranno vedere la manifestazione come altre manifestazioni in diretta su Rete 8. Correggere un comportamento sbagliato non è sempre facile. Certo è che se anche il termine non piace da un punto di vista educativo è necessario adottare misure repressive in grado di agire su chiunque arrechi un danno ad altri. Siamo molto attenti con delle misure di prevenzione che abbiamo adottato ripetutamente anche perché la risposta deve essere immediata. Noi siamo convinti che quando c'è una violazione dell'ordinamento giuridico se non c'è una risposta immediata poi certi comportamenti vengono ad essere emulati. Quindi in qualche maniera le risposte sono state immediate. Abbiamo innalzato l'asticella della prevenzione, c'è tanta polizia per strada, ci sono tante forze di polizia e per fortuna la nostra provincia rispetto ad altre è ad un livello di tollerabilità fisiologica maggiore.